secondo i racconti locali quando annibale giunse a nereto in provincia di teramo in abruzzo trovò qui così tanto vino buono da dissetare tutto il suo seguito e perfino da lavare i suoi cavalli per curarli dalle malattie prese durante la battaglia contro i romani nelle paludi del 3 si meno